Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo di un lotto di raschera DOP per la presenza di Salmonella Brandenburg. Il formaggio interessato è stato messo in vendita in forme intere appartenenti all'otto con la data di produzione 0606-2020 e quella di scadenza 09-11-2020. Il raschera richiamato è stato prodotto dal caseificio Ceirano Villosio SRL nello stabilimento di Via Principe Amedeo 14 a Scarnafigi in provincia di Cuneo. Marchio di identificazione T01319CE. Per ragioni di sicurezza si raccomanda di non consumare il formaggio raschera DOP con lotto e scadenza segnalati e di riportarlo al punto vendita d'acquisto per ottenere il rimborso.